salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come vedere il proprio seed sul pc ovviamente il seed è una identificazione della sicurezza degli utenti ovviamente ogni volta che si va a creare un account oppure un gruppo si genera così un seed al momento della creazione ovviamente per vedere che cos'è pure dove vedere questo seed basta che vai su cmd il prompt dei comandi fai esegui come amministratore questo cmd e andiamo a mettere questo comando ovviamente l'identificatore della sicurezza degli utenti user security identifier e noi andiamo a mettere questo qua ve l'ho lasciato in descrizione e facciamo invio come puoi vedere questo è il mio seed quindi se questo video vi è stato utilissimo su come vedere il proprio seed sul pc grazie a tutti per questa visione iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 ciao